Ciao Lapo, benvenuto Lapo De Carlo, che sapete ospite dei nostri programmi di sport, tifoso interista, però magari non tutti sanno che Lapo in realtà è un esperto di comunicazione. Sì, lo sono, nel senso che ho iniziato da quando facevo l'animatore nei vari villaggi turistici, da quando poi mi sono messo a parlare in radio, in tv, a fare tutta una serie di cose che sono legate alla comunicazione, fondamentalmente io presento da quando ho 16 anni e di conseguenza ho maturato sul campo un'esperienza che mi potesse portare poi a, negli ultimi anni, a fare delle esperienze anche universitarie, in Bicocca in modo particolare, l'Università Bicocca di Milano, facoltà di psicologia e poi anche a fare un'esperienza di altro tipo, anche didattica, con dei privati e poi con le aziende. Quindi è diventato tutto sommato un'esperienza bella, produttiva, a me piace e posso portare da una parte l'aspetto teorico e dall'altra l'aspetto pratico. Grazie allora Lapo De Carlo, devo chiudere tutte le informazioni, tra l'altro sul tuo sito c'è un tuo sito dove ci sono tutti i corsi che fai? Esatto, www.lapodecarlo.com o .it è la stessa cosa e poi lì ci sono corsi che io tengo naturalmente verso Coperta Stresse che è un'associazione teatrale e poi privata. Va bene, grazie, grazie per averci seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata, vi aspetto puntuali come sempre, non mancate. Grazie. 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 Grazie.